Questo incontro è il nono incontro dopo un po' di tempo che ci troviamo con il Dottor Consoletti e con il Dottor Battista per fare queste periodicità di scambi di idee e di vedere come migliorare quelle che sono le attività di terapia antargia che vengono svolte in Regione Puglia. Ora io passo la parola al Dottor Battista perché è il nostro Presidente e ospite contemporaneamente in questa giornata. Grazie al Dottor Pulito e intanto un saluto a tutti perché anche nella situazione nella quale ci troviamo si cerca di mantenere una certa continuità anche rispetto alla nostra tradizione annuale di attenzione sulla legge 38 e sulla medicina del dolore nella nostra Regione. Ricordo che lo scopo principale di queste iniziative è quello di sostenere i servizi di medicina del dolore anche perché in molti casi si registrano anche una scarsa conoscenza della legge 38 in certi casi magari non ci sono le risorse per poter dare risposte assistenziali adeguate molte volte non ci sono i raccordi tra i vari settori della ASL e quindi in quell'occasione, ricordo anche col collega Sandro Marulli, abbiamo avuto la possibilità anche di attivare in maniera più determinata, più compiuta il servizio anche presso l'ASL di Lecce. E quindi evidentemente questi incontri servono non solo per fare il punto della situazione ma anche per sensibilizzare poi le istituzioni che sono presenti. Questa edizione doveva avere anche un carattere anche celebrativo perché siamo a dieci anni dall'approvazione della legge 38.